Dunque ragazzi siamo alla terza parte Ecco, Andrea se n'è andato Dunque, adesso nella seconda parte abbiamo visto Medieval 2, Spyro 2 e Formula 1 99, tre video bellissimi Ora giocheremo a Crash Team Racing Dopodiché vedremo la demo, il video demo di Final Fantasy 7 Chissà dove è andato The AM97 Questo pennuto lo amo Wow, partenza turbo ragazzi Allora, vediamo se mi ricordo bene i comandi Ah sì, giusto, devo driftare Così si drifta, sì Benissimo Già è tanto se non cado alla fine della gara, nemmeno una volta Giuro che ero più bravo a giocare a questo gioco da piccolo Stupido coccodrillo ti ho raggiunto Ah, mannaggia a te Oh, che pure Mmm, bel lancio Eh, cacchiero mancato Ah, ah, stupido Ma che cacchio faccio? No, addirittura l'orzo Mastardo Mi superano tutti Anzi, mi vogliono superare tutti Nooo Brutto figlio di... Mi è sempre stato sul cavolo quell'orzo Ah, ah, ah Perché se sono fortunato arrivo secondo Se sono fortunato Niente, terzo E niente, questa era la demo Di Crash Team Racing Uno dei migliori della saga di Crash Senza dubbio Ora vediamo Il video di Final Fantasy 7 8, scusami Il video di Final Fantasy 7 Il video di Final Fantasy 7 Il video di Final Fantasy 7 Non ci fate caso Ci mancherebbe solo che montiamo Il video di Final Fantasy 7 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 ah il piloto nomadico classico fredd maicini a a ho vinto quindi ecco questa nuova a un'altra non succede spesso di vincere solo più veloce molto più veloce sono quasi paura ciao padre ciao grazie sto facendo un video un po' si è un po' ho ripreso la demo certo che ne è bella mia maria se te lo ricordi bene ora sappiamo che mi padre mi padre si ricorda buona cosa aia perfetto sto facendo un po' schifo e sono settimo immaginato 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 ecco si è rotta la macchinina best bene ragazzi è finito il gameplay di winter releases se vi è piaciuto il video mettete mi piace commentate e iscrivetevi al mio canale ciao ciao